Questa festa è tutta per noi Ok, un attimo Non lo trovo, dove è il gatto? Allora, il piano può iniziare Cerchiamo il gatto E così ci vendichiamo che non ci ha invitato alla prima del film E invece ha invitato Federico Non c'è, questa era la sua voce ma non c'è Dov'è? Come facciamo se non è qua? Ma Cerzo sarà in casa? Ok Senti, io la distraggo con un regalo, ok? Io mi occupo del gatto, così la prossima volta invita anche noi magari Alla prossima Ciao ragazzi Oh, wow, 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 non sono un fantasma, tranquille eh Tommaso Ciao Da dove sei? Camera man? Ecco perché non poteva oggi Sì, come, ok Sono entrato dalla finestra là su Perché sei entrato dalla finestra? Ho bussato tre anni, non mi avete aperto Non è vero, non ti ho sentito nulla No, io ho bussato Non hai messo Ho bussato, ok, ok Comunque ho portato un regalino per te Cioè tu sei venuto per portarmi un regalo? Certo Entrando dalla finestra Prego È molto strana questa cosa, lo sai che entri in casa mia senza pisare neanche Te andrilo Ma non entrare mai più così No, no, no Vediamo, è un profumo? Eh, scopri Un profumo di Chanel Che bello Che bello Tieni Buono? Sì, 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 molto buono Grazie E restiamo qua Restiamo qua tutti insieme Sì, tutti e come state? Cioè, vi raccontate qualcosa di nuovo Come è dato il capodanno? Noi stavamo a prendere i regali dei fan Allora, i fanmine hanno fatto un sacco di regali Vi faccio vedere Sì, però rimaniamo qua Aspetta, posso vedere cosa? Allora Il gatto è qua Quindi Cosa posso prendere? Questa Allora Mettiamo anche una bella aperta Magari gli fa freddo dentro Al frigo Del micino Oh, povero cartino Tranquillo Non preoccuparti Va tutto bene Va tutto bene Va tutto bene Almeno poi Charlotte lo vede Alla Alla Prima Ok È bella È bella Camera mia Camera mia Camera mia No, non sta facendo niente Non sta facendo niente Cosa c'è la? Nulla Cosa? No, mi puoi spostare? Cosa c'è? Nulla No No Feli Feli No, lo hanno preso Loro Feli Sanno preso No Andiamo dentro, magari ci scambiamo fra le persone Hai finta di niente? Sì, io non li guardo Sì, io non li guardo Non ci hanno visto Sì, io non li guardo Ok, vieni qua, dammi il mio gatto per il tuo sore Certo Felix Devi sapere che il tuo gatto... Felix? Non è lì, esatto Il tuo gatto è nel frigo di casa Nel frigo? Nel frigo? Stai scherzando? E direi da tanto tempo Nel frigo di casa mia e non me l'hai detto? È qualche oretta Qualche oretta? Sì Che è nel frigo di casa mia? Dentro una scatola l'ho messo Ma stai scherzando? Stai scherzando? Se hai ucciso il mio gatto io ti giuro No Io ti giuro che ti uccido anche a te, hai capito? Tanto non è successo Ma sei mattina Ma non sei normale Ma non ho fatto niente io Non sei normale Andiamo dentro Quindi la pagata è grossa Avete capito? Tommaso guardami La pagata è grossa Adesso venite Alessandra Tenta di fare veloce Io mi giuro che siete due tutti certi Vediamo Dov'è? C'è il vino Attenta Ma state bene? Io devo stare attenta a voi Dovete stare attenti perché vi ammazzo dopo questa cosa Vi giuro Come Felix? Felix? Che schifo! Sorpresa! Secondo voi noi mettiamo un povero gattino dentro un frigo? No Non siamo così terribili No No Stai scherzi Vabbè quindi alla fine è tutto sommato Ma è tutto bene Sì è solo uno scherzo Nel momento di Ale 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 Sta male Mi sa che sta male No Ale no Ale Ale Ok Se l'avete fatta voglietare me ne rendete conto Ma era solo un topo Ale 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 Vieni Tomato Tomato Ale 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 Dai È solo un topo Dai Oh Cavolo Vieni Dai Guarda Guarda Ecco Felix 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 Sono tornati Felix 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 Era qua Micho Leonardo Dov'è Felix Io l'ho messo qua dentro Dov'è Felix Non c'è più Tomato Dov'è Felix Ragazzi Dov'è Felix Ragazzi Dov'è Felix Dov'è Felix Ragazzi Venite qua Oh Cavolo C'è Felix Sono un hacker Non farmi arrabbiare Oh Felix Chi l'ha messo Lo sapete che nel mio canale youtube ci sono tre video che sono stati messi che non ho messo io Ragazzi L'avete sentito Dov'è Forse è il hacker Proviene da qua È in casa È lui che ha messo quei vici Ragazzi Che non ho messo io Capito È lui che mi ha hackerato il canale youtube Adesso l'ho cacciato dal mio canale però Qualcuno ha appena sparato in casa tua Lui ha trovato il mio indirizzo Adesso sta sparando in casa È qua Ragazzi Ragazzi ha una pistola State calmi Leo dove stai lavorando Shhh C'è la Felix Leo vai piano per piacere Ragazzi mi ha una pistola in mano Tieni Tieni È venuto da la Dobbiamo salvare il gatto Ok? Hai voluto fare tutta questa cosa Comunque non c'è nessuno Eh Guardi 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 Non di girare Vieni fuori Scappa fuori Qualcuno faccia qualcosa Ha una pistola in mano No Eh Il gatto è tuo c'è un solo passo in mano oh Felix sei in mano Aker Aker sei giù posa la pistola per piacere non ti vogliamo fare del male ok ok non ti vogliamo fare del male Aker guardami Aker Aker aiutandemi ragazzi aker di Felix aker di Felix aker di Felix stai fermo aspetta stai fermo cosa vuoi in cambio ti do tutto basta che mi dai Felix un foglio un foglio un foglio per scrivere un foglio per scrivere bene cosa devi scrivere un foglio ok ok tieni tieni quella pistola Felix va tutto bene Felix va tutto bene Felix vieni qua per scrivere puoi togliere la pistola dal mio gatto cosa vuoi in cambio? cosa c'è scritto? password youtube password youtube la password del tuo canale vuole la password del mio canale in cambio del gatto certo è una Aker lo capisco perfetto bene te la scrivo tu mi dai il gatto ok dai il gatto a Tommaso Tommaso Ale prendi il gatto guarda il gatto ok e io ti scrivo e io aspetta ti scrivo la password ti scrivo la password no 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 sta scrivendo la password guarda prendi il pistola prendi la cosa non lo faccio ferma lascia il gatto lascia il gatto lascia il gatto Tommi aiutami no andate via andate via tutti via non ti fanno il mollo non ti fanno il mollo ti fanno il mollo portiamolo fuori e sai che la pistola non può farci niente ok c'ho la pistola in mano ok ti sto puntando la pistola alla testa subito vai via è il testo di chiara la polizia hai capito? ok chiudi ma come ho fatto? devi cambiare la ho fatto? devi cambiarla si no ragazzi come? c'è il mio computer il tuo computer? è acceso è già entrato è già entrato e ho pubblicato tre video oh no guardate questo è il mio ultimo video e ho pubblicato questi tre video ma non sono miei non ci credo è entrato un hacker nel mio canale e adesso? devi cambiare password devo chiamare ragazzi devo che serve? ragazzi devo chiamare qualcuno chiamiamole aiuti forza andiamo a chiamare gli aiuti un verino e ne ho non 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 Grazie a tutti.